Manchester United, Napoli, io sono ovviamente il Napoli, mi spiace, vediamo se può vincere con Napoli, con Napoli, Manchester è forte, Napoli che inizia la sua partita con Hamsik, che gioca in casa, sopportata dai suoi tifosi, ma il Napoli cercherà di fare il suo gioco, di imporre il suo, avanti Napoli il suo, si gonfiano, io non mi ritrovo con la visuale, perché si mette lontano, perché stai un chilometro lontano, gli altri in un altro modo, però poi non so se gli altri avrino, come si mette, 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 ma si può metterlo, si si può metterlo, proviamo, dovrebbe essere impostazioni, impostazioni in gioco, ecco qua il visuale, il giocatore singolo, il giocatore singolo, questo è da sopra, è la sopra, ti sta facendo una musica, a me piace questa, Campolarco, metti Campolarco, farei bene, non sai, vediamo, proviamo, sennò prendiamo, ah è bello, fa due stomoli, guarda volta stomoli, non girate la testa di guardare, almeno a me no, come si vede brutto stai? a Gesù, infatti a me non era questa, l'era un po' più, eh più giù, è il cane, mi sta venendo molto a sto, un po' basta, non so, va ancora, che c'è sta, predefinita, televisiva, televisiva, proviamo televisiva, ah come accetta, bellissimo, bello, 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 non è strano stupano, televisiva è bello, guarda qua, bellissimo televisivo, eh ma non ti fa parire tutto, un'opera che dobbiamo poterlo, eh, molto, attenzione, a noi lo vede beat up, per 일단 planchi, ah è única, se stupiamo, eh ma lì è strano, non ve' bello, dovremmo fare predefinite, no no, non li hai davanti predefinite, dai che fa pupa, oh, predefinite e predefinite, tutto parco , secondo cambio, tutto predefinito, noah dinamico, muovete predefinito, tutto, no, no, classico, classico... No, adesso sta partendo a finire mai più Ah! Lo guarda prima, è cagliato quattro Si che cambiava Non è cagliato niente, la faccio giusto questo Che cagliato? Pare che stanno sotto il corpo Non vedi? No Io mi trovo così Metti il pretefinito Aspetta, vanno a fare questo colpo Oh ma non riesci a giocare Oh, che due muovi sei? L'ho predefinito, ah Non mi piace Non mi piace predefinito Ah, mamma, ma No Ah, io ho presunto Ah, siccome... Io a te non ti faccio Non ti voglio far vincere Mu' gioco, anche se non mi piace Vado fino in muo' e giocate così Sì, perché? Agli altri non mi piace Eh, perché non si vede bene Ah, a me che? Non si vede bene Come si vede bene? A te si Ma tu non ti niente Che sei inzzato Che sei inzzato Oh, non ci rompere Ma vai a rompere Ma vai a rompere da un'altra parte Se vuoi proprio rompere Ti uccido Mario Ti uccido Ti uccido Ti uccido Non ti uccido No, 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 no Arbitro No, no, no Arbitro Ebbia Non si è combiato Arbitro Come? Non si è mai male Ehm Non sei neanche come si mette alla sua Cagli Ma vuoi un po' C'è l'esplorio Il segno Oh Mertens Di Oh, bravo Non so Posso andare? Ehi eh vai bravo alucapu 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 non è va bene ma c'è una nottima mi stai segnando tu il luogo facendo dire è strano ti ricordi su facebook 14 ho segnato dal lago questo ho detto il luogo facendo dire è strano se la mettesse dentro con quella tua testa no 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 oh no devi farlo continuare per l'ultima azione l'ultima la vedo nera io la vedo brutta non nera ma non ti trovi questo visuale non è giusto non va continuare a colpire non credo sia finita qui mi aspetto una relazione passare dovranno sudare io sto sudando io con le mani mi riesco ad affidare con l'impatto col pallone praticamente un rigolo è corto vuota si riparte dunque con lo United davanti Chris Mertens Martins Rashford tu devi crossare di prima prima di crossare tutti si mettono davanti a quello a quello a quello a quello l'impatto ho mangiato sto prossimo non mi tirava mi tirava mi tirava mi tirava i grandi pezzi mi straccio ma speriamo che mi tira no no ha finta ma che sta a tirare o no e goli ma sma tira un tiro stavo tirando con certo non ha fatto la finta è bello tu stai di donna e si fa dura per loro periccato c'è chi mi ha tirato il segno attenzione 300 spugio non facile per quanto si è visto finora attaccato il gioco del Napoli non è attenzione di tutto impeccabile dura di tassi no la mia la voglio andare con la mia No, non mi ha fatto il fristrante! Guardatevi morire Dai Lukaku prendi lei e crossala Tutti indietro in difesa! Tutti indietro in difesa! Uuuuuh l'asciuto! Ah Lukaku 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 Metti verso! No! Che ha fatto? Hai tirato! Ma forse non ti funziona Secondo me non ti funziona Non mi ha funzionato perché mi ha tirato Ma tu niente là No non volevo tirare, volevo crossare Forse l'hai sbagliato a crossare No! 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 Fuori giovane o no? Io esco Maria! Io esco! No Fuori giovane Ma tu neanche lo sapevi Ma non hai detto niente Ma ero un amico casativo da giudirato Vabbè Già stavano 4 a 0 Due gollo Non li ho fatti Due gollo E' pure io fuori Che ne hai fuori Hai capito perché? Ma che mi sei fuori Tu non li sai farei che hai fatto zero gollo Un cam. Un cam. Oh Tu mi hai fatto perdere te Tu hai visualo la cosa Non c'entra niente Fatti perdere te Non mi sai chiare Non c'entra niente Non mi trovo bene Non mi trovo bene Non c'entra niente Non mi trovo bene Non mi trovo bene Non mi c'entra niente e non c'entra sempre in casa vabbè ma non c'entra niente in casa ma non c'entra niente ma non c'entra niente ma non c'entra niente ma non c'entra niente tanto non è che il fifa e la stai su figli ma dove l'hai visto? su gumbo su gumbo su gumbo su gumbo coraggio solo il tentativo la buona la buona la buona la buona è finita è finita ragazzi è finita ha salvato l'albino ha salvato l'albino questo giugno mi piace, mi c'è l'egetto